Bloccatemi, bloccate la testa, fate zapping con la televisione, non dimenticatelo, zapping! L'emozione è tanta, l'adrenalina qui in questo punto è veramente a mille, anzi a un milione, perché tutti vorrebbero avvicinarsi, vedere i cavalli più vicino possibile, ma questo non è possibile perché è estremamente pericoloso, in questo momento soprattutto, è estremamente pericoloso. Questo è uno spot, uno spot che cos'è? È un qualcosa che esce in televisione e voi lo vedete. Allora la parola preferiti, la parola preferiti è una parola che lo dice la parola stessa, cosa preferite? Qual è la tv per esempio che voi state guardando in questo momento? La nostra, la nostra tv, mi te la vai dentro le due, quindi la nostra tv, tele-regione,